No, mi sono perso lo spawn. Dove vado, allora? Atterreremo... Là. Aspetta. Porca va, non mi aspettavo. Ci fosse gente persino qua. Anche sto posto molto figo per... per atterrare. È pieno. Mamma mia! Bro! Non ti azzardare mai più, eh! Non ti azzardare mai più! Cosa? È comparso a caso sto tipo? Ho detto, boh, 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 boh. Porca va, ero lì tranquillo, è comparso dalla finestra. Io ho pensato se era uno. Ciao, andata. Ragazzi, ma anche nelle vostre partite è così. Cioè, guardate la tempesta. Si sta chiudendo adesso la prima. Mi sembra sia la prima. E siamo... siamo... siamo in 16. Ma cosa? Cioè, muoiono tutti subito... È così anche da voi in ranked, raga. Cioè, muoiono tutti subito così. Porca vacca. Non c'è anima viva. Siamo in 13, raga. In 13! Ah, sono tutti là, guarda. Tutti là. Andiamo. Sta scappando? Ah, no, non è lui. Ma raga, vedete che non entrano... Non entrano i colpi, raga, con sto coso. Ma perché? Non sono capace di usarla, vi giuro. Quest'arma, ragazzi, non so voi, ma... Quando colpisce, toglie un botto. Il problema è che io non riesco... Avrò di problemi... Che mi si è attivata la torretta e l'ho beccato, meno male. Ok, l'ho anche preso. Quando becca, becca tantissimo. Il problema è che non becca mai. Almeno per quanto riguarda me, eh. Qua ho avuto una mira decente. Ripeto, quando becca, becca fortissimo. Cioè, proprio fa un danno incredibile. E il problema è che quando non becca... Ah, è un po' un casino. Calmo. Prendi sto scudo! Ok. Con calma. Eh, vedete raga che non entra... Oh, qua. Una volta che ne è entrato uno, lo distruggo. Il problema è il prima. Ma sul serio, eh? Oddio, raga, quanta gente c'è! Sono tutti lì... E lui è lì sotto, eh? Spiace. Ma raga, ma l'invisibilità è una chiamolata. L'ho visto tantissimo, dai. Cos'è sta roba? Boh, ragazzi, senza senso. Guardate che lutto aveva sto dito. Ma non fatemi spaventare, eh? Dovete stare calmi. Ok. Allora, dopo si chiude di qua. Volevo mettermi là sopra per avere vantaggio di altezza. L'high ground. Ma in realtà conviene mettersi di fianco alla prossima... Alla prossima, sì. Ma che bello, ma che bella postazione. Il terzo... Ragazzi, dov'è? Dov'è il terzo giocatore? Ok, che bello che mi pinga la gente. Ok, ecco il terzo. Era nel bunker, eh? È possibile? O è tuttora nel... No, forse è dietro quella roccia. Eccolo lì. Guarda, aspetta. Noi qua siamo già in safe, guardate. Tra poco dovrebbe pingarmeli tutti e due. Esatto. Sono entrambi là sotto. Oh, la madonna... Quanto è arrivato velocemente qua sto tipo. Come ha fatto? Tra l'ietra, stai tranquilla. Ah, l'altro è morto. Ok, 1v1. Non l'avevo visto. No, no, no. Ho finito tutto, raga. Mamma mia, bella. E la vince. Non importano i materiali. Mi sa... Ma lui li aveva. Perché non l'ha costruito? Platino 3, raga. Ah, perfetto. 97% in più. Bellissima partita. GG. edììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììwaììììììììììììììììììììììììììììììiìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì